Radio Esercito presenta Radio Chat, personaggi famosi ai microfoni di Radio Esercito. Radio Chat, solo su Radio Esercito. Bentornati su Radio Esercito. Per il nostro appuntamento di Radio Chat con Giulia e Marco Cubetti, capo redattore di Radio Esercito, ai microfoni con noi abbiamo colui che ha iniziato a soli 20 anni come allievo del grande Indro Montanelli a Il Giornale. A metà degli anni 90 diventa vice direttore del Tempo e per oltre 7 anni è poi direttore dell'ADN Kronos del mitico Pippo Marra. Da più di un decennio, dal 2009 per la precisione, è a Mediaset dove ha dapprima ricoperto la carica di vice direttore del TG5 per poi assumere il comando della corazzata News Mediaset, al quale dal 2019 ha aggiunto la direzione del TG4, quella di studio aperto, del TGcom24 e di Sport Mediaset. Oggi è con noi il direttore Andrea Pucci. Buongiorno direttore. Buongiorno a tutti. Benvenuto. Un saluto. Grazie. Un saluto. Prima ancora di parlare lo dedico a tutti voi dell'Esercito, ma delle forze armate in generale. sia in Italia che all'estero. Grazie mille. Grazie. Senta direttore, per raccancermi alla sua presentazione, mi viene da dire che lei ha sotto di sé un vero e proprio esercito di giornalisti. Una brigata. Esatto, almeno una brigata. La prima domanda che mi viene spontanea da farle è quanto può essere difficile essere alla guida e coordinare quotidianamente il lavoro di così tanti giornalisti. Sì, diciamo che più che difficile è complesso perché un po' come voi nell'Esercito ci stanno tante specialità, quindi dai cronisti ai politici, dai giornalisti economici agli sportivi. Insomma è abbastanza complicato. Però devo dire che se si mette in piedi una buona squadra di capi che sanno eseguire le indicazioni che vengono date quotidianamente, ma soprattutto ora per ora perché il prodotto giornalistico cambia in continuazione. Mentre stiamo parlando ci sta una crisi di governo che si sta per aprire o magari per chiudere, chissà. E quindi avere dei buoni capi che sanno recepire le indicazioni giuste e trasmetterle a tutti i livelli. Ecco questo è fondamentale di fronte a qualsiasi evento perché poi il giornalismo è qualcosa che non è statico, è qualcosa che giorno per giorno cambia. Ogni giorno ha la sua storia, ogni giorno ha il suo evento da seguire. Certo. Proprio perché allora ha parlato di brigata, le vorrei chiedere una cosa più che altro, insomma, se ha un ricordo, se ha avuto rapporti con l'esercito italiano in passato? Io sono stato, quando stavo al giornale, tra le tante incombenze che mi avevano dato, una era quella di seguire proprio le forze armate. Quindi ho avuto rapporti strettissimi e continui per anni, sia con l'esercito che con la marina, l'autonautica. E li ho seguiti su tutti i fronti, perché poi Montanelli mi fece diventare inviato giovanissimo e mi è capitato anche in teatri operativi di seguire le forze armate, l'esercito in particolare. Ma è possibile che lei abbia fatto parte della brigata Sassari nel suo passato come soldato? Sì, come no, come stante, attenzione. Ah, ecco, giusto, giustissimo, corretto. Come no, sì, sì, 152, battaglione di santeria Sassari nel 1981. Bene, bene, allora ha avuto a che fare con noi anche, diciamo, nella sua vita privata, oltre che quella professionale. Ora però vorrei fare un altro passo indietro, direttore. Vorrei portarla, anzi, vorrei chiedere cosa porta con lei di quella prima esperienza con il monumento del giornalismo italiano Indro Montanelli. Il porto con me, lo condivido con i colleghi dell'epoca, perché per me sono passati tanti anni, e lo spirito di corpo che animava la redazione del giornale, perché eravamo tutti un po' stretti accanto a questa bandiera del giornalismo che era Indro Montanelli e quindi quotidianamente ci battevamo, anche perché era un giornale particolare, era un giornale controcorrente, quindi eravamo un po' accerchiati dagli altri giornali che erano maggiori e sono allineati tutti su posizioni che noi contrastavamo. Quindi questo ci ha dato uno spirito di corpo a noi giornalisti dell'epoca, al giornale Montanelli, che altrove non si trovava, forse un paragono non si può fare con Repubblica di Eugenio Scalfari, superò fronti contrapposti, ecco noi eravamo proprio l'altro fronte. Senta direttore, lei è passato dalla carta stampata alle agenzie e quindi alla televisione e sono tre modi di fare giornalismo molto diversi, ma ce n'è uno di questi tre che ha più nel cuore? Devo dire, il giornalismo, io ho sempre fatto giornalista operativo, quindi sia come cronista di nera, di giudiziaria, come inviato speciale. Il giornalismo però è quello che mi è rimasto perché è adrenalina pura ogni giorno e quindi forse è quello delle agenzie di stampa, perché lavorare in agenzie di stampa vuol dire essere nella prima linea del giornalismo, non a caso sono le agenzie che forniscono le notizie a tutti gli altri mass media. Quindi il giornalista d'agenzia, che è un giornalista a differenza della carta stampata dove c'è comunque la firma o della televisione dove comunque appare, il giornalista d'agenzia è una sorta di milite ignoto che sta in prima linea e porta le notizie a tutti gli altri senza mai comparire. E quindi il giornalista è veramente la prima linea del giornalismo, le notizie si hanno prima di chiunque altro. Poi l'agenzia di stampa è una sorta di mitragliatrice perché a differenza di altri mass media, mentre noi stiamo parlando adesso, un'agenzia di stampa batte i lanci e in continuazione arriva a fare 30 lanci al minuto, quindi 30 notizie in fronte al minuto. E dietro questo lavoro c'è appunto il giornalista dell'agenzia che nessuno conosce. Eh sì, perché c'è solo una sigla che in pochi sanno decifrare. Sanno decifrare, esatto. Direttore, invece io vorrei portarla nel nostro mondo, quello della radio. Lei che rapporto ha con questo mezzo di comunicazione? Io la radio la amo tantissimo e uno dei miei cruci è proprio quello di non averci mai lavorato perché come tutte le specialità del giornalismo è un pianeta a sé con dei ritmi, delle tecniche diverse. La cosa che mi fa piacere ricordare qui a Radio Esercito è che ho assistito alla nascita del primo esperimento delle forze armate con una radio ed era Radio Ibis, perché ero inviato in Somalia, a diavolo di guerra a Mogadescio e grazie all'iniziativa del compianto colonnello dei granchieri di Sardegna, Antonio Torre, partecipai e avevo vissuto l'esperienza di Radio Ibis che nacque dal nulla sull'onda un po' del Good Morning Vietnam. Lì Antonio Torre aveva questa geniale idea di dar vita a Radio Ibis che intratteneva così lontano all'epoca a Somalia, insomma, era una delle prime operazioni dopo il Libano fatte dall'Italia all'estero e intratteneva in un teatro operativo i ragazzi che stavano lì. Ora invece le vorrei chiedere qualcosa sull'attualità di adesso. Dopo i media tradizionali arriviamo poi ai nuovi media. Fare informazione ai tempi dei social di certo è una sfida del tutto diversa rispetto a quando la comunicazione dei giornalisti era esclusivamente monodirezionale. Come si fa di stricarsi nel ginepraio, se così lo vogliamo definire, delle fake news? Sì, sì, le fake news sono un problema, però devo dire la verità, proprio perché ormai sono quasi 40 anni di giornalismo, quindi le ho viste tutte, c'è sempre stata l'intossicazione nel mondo giornalistico. Oggi si chiamano fake news, ma insomma le bufale sono sempre esistite, sono sempre in agguato. Io penso che poi vuoi l'esperienza, vuoi il fiuto, ma vuoi soprattutto un principio che sta alla base del nostro lavoro, perché la base del lavoro giornalistico è la verifica e quindi non so, a me devo dire la verità, non sono mai incappato in una fake news, perché le notizie vanno verificate, quindi che ieri erano le veline, oggi sono magari delle notizie che appaiono sul web, dove c'è una pioggia incessante, di fatto la notizia va verificata, è un giornalista che non verifica, tradisce proprio il suo primo compito, quando ci stanno i medici il primo compito è quello di salvare le vite, il giornalista è quello di verificare, quindi è un pericolo, perché esiste il reale, però insomma con il mestiere, la professionalità lo si può sconfiggere. Diciamo che la differenza è che magari il lettore una volta mandava la lettera al direttore per sconfessare magari una notizia falsa, qua invece ti rispondi in pochi secondi ed è più complicato forse. Sì, anche se, ripeto, la verifica è la base di tutto, perché a differenza anche di altre categorie, ricordiamoci, soprattutto il direttore me lo ricordo a me stesso, tutti i giorni, che si risponde al tribunale degli errori. Noi abbiamo una legislazione che riguarda la stampa, i cosiddetti reati a mezzo stampa, dove è un errore insomma lo staga a livello penale, sia in termini di reato, quindi con delle condanne, sia in termini pecuniari. Senta, abbiamo parlato del passato, del presente, e vorrei farle una domanda sul futuro. ecco, dopo una carriera che c'è così ricca, così importante, passando da tanti media diversi, ecco, ha ancora qualche traguardo professionale che vorrebbe ancora tagliare, direttore, qualche progetto che tiene chiuso nel cassetto? Ma, diventare direttore di Radio Esercito. Che onore, bene, Come la radio, la radio ancora, giustamente le mancava. L'aspettiamo, allora l'aspettiamo. Aspettatevi, chi siano, mai dire mai comunque, mai dire mai. Ci mancherebbe anche perché è bello il fatto di sentire la sua curiosità sotto questo punto di vista. Sono anche direttore, ecco, sono anche direttore dei giornalisti radio del gruppo Mediaset, quindi c'è il radio, Radio su base, Radio Montecardo, R-150. E allora l'aggiungiamo alla lista e ben bene. Ce l'abbiamo persa qui. Mi cambino, eh. Bene, allora noi l'aspettiamo. E allora senta, siamo arrivati, saluti, allora a questo punto noi di solito ai nostri ospiti chiediamo di lasciare un loro ricordo o un messaggio attraverso una canzone così da poterla ascoltare e condividere con i nostri radioascoltatori. Allora, una canzone e dunque, una canzone che amo è More, che è interpretata da Fred Sinatra, ma in realtà è tratta dalla colonna sonora di Mondo Cane, che era un film che uscì negli anni 60, io sono nel 61, colonna sonora di Rizzo Portolani, di cui poi Lorenzo ha fatto un grande successo. Ecco, questa è una canzone che mi ricordo un po' gli anni 60 da ragazzino. Lui c'era tanta voglia di fare. Noi la ringraziamo quindi per aver condiviso con noi questo ulteriore suo ricordo e la ringraziamo più che altro per le parole che ha speso per Radio Esercito ma soprattutto per i saluti iniziali che ha fatto rivolta tutta la Forza Armata a tutti coloro che appunto sono impegnati sul campo. La ringraziamo ancora e Marco salutiamo il direttore e lo aspettiamo in redazione a questo punto. Spero di venirci più presto. Grazie. Ragazzi, grazie a voi e insisto di noi saluti a tutti i vostri colleghi di divisa in Italia e all'estero. Grazie. La ringraziamo. Buon lavoro direttore. Grazie. Alla prossima. Arrivederci. Radio Chat solo su Radio Esercito.